buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale youtube, vieni in cucina oggi facciamo o cuciniamo le polpette di pane ok allora vieni qui in camera abbiamo il pane questo è il pane 500 grammi di pane bagnato con l'acqua ok anche si può fare con un po di latte fa niente ma io preferisco con l'acqua ok così 500 grammi e poi uova una e poi 150 grammi di parmigiano parmigiano e poi 10 grammi di aglio e poi questo 30 grammi di prezzemole e poi sale e pepper questo una step ok e poi qui step 2 pangrattate e questo metto più o meno 350 grammi ok 350 grammi e poi solo una uova e poi sale e pepper ricordati questo tre step e poi olio di semi per per freggere ok dopo allora oggi vieni vicino metti questo subito subito e poi giriamo insieme così anche si può con le mani e poi formaggio piano piano ok giudiamo ok ok Ok, poi prezzemoli, ricordati, 30 grammi, ok, mettiamo in altri posti, perché la cucina mia è sempre tutto ordinato, ok, e poi un po' di sale, ok, e poi un po' di pepe, ok, ok. Ok, abbiamo fatto come questo, l'impasto, ok, e poi questo uova, aggiungiamo un po' di sale, ok, solo un po' di sale, così, e poi pepe, così, e poi giriamo, così. Grazie. Grazie. Ok. Allora, questo abbiamo fatto come così, mettiamo dentro l'uova, così, ok, e poi mettiamo qui, così. Va bene, così, e poi mettiamo qui. Questo è pronto per freddare, fredgere, scusami, fredgere, ok. Ok, ora, questo facciamo scaldare l'olio, ok, aspettiamo tra questo più o meno quando è caldo, ok. Ora facciamo questo, continuiamo, ok. Se tu vuoi con le mani fa niente, ok, ma io preferisco così, perché è un uno diverso, è vero, amore? Con le mani, con le mani, ciao, ciao. Ok, abbiamo fatto come questo, ok, e poi l'olio già scalda e poi mettiamo piano piano, ok, così, ok. Sempre piano 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 Ok. Allora, più o meno aspettiamo quando colore cambiare come colore di oro, ok? O giallo. A dopo. Ok, piccino, già pronto come questo colore. Allora, voglio spiegare la mia cucina. Praticamente questo è il K, vero amore? Questo. Così, ti senti il tonore. E poi il K va sotto. E' visto? Questo. Ok. E poi... Hä? È. Grazie. Ok. Ok, perfetto. Dopo continuiamo con altre cose. Ora prepariamo i piatti, questo è il piatto di cuore, e poi mettiamo un po' così. Ok, ok. Ok, voilà! Ok, questo è già pronto, abbiamo fatto le polpette di pane, ho fatto con amore, assaggiamo con me, buonissimo! Molto buona, ok, ciao ciao, buon appetito! Ok, mangiamore, assaggiamo queste polpette pugliesi, com'è? Buonissimo! E' davvero molto buono, anche io voglio mangiare! Buon appetito! Buon appetito! Ciao, arrivederci! Ciao, ciao! Grazie.